Daniele Cannas, vi abbiamo commentato già un grande traguardo che avete raggiunto. Partiamo dalla fine, dall'ingresso dello spogliateo del mister, che è successo? È stata una parte divertente, dove il mister ci ha bacchettato per tanto tempo per questi tre punti che oggi sono arrivati, è partita un'imitazione un po' divertente, naturalmente sempre con rispetto del mister e si è divertito anche lui di ciò. Vi siete finalmente scatenati, vi siete ripresi un po' da quelle urla che lui lancia dalla panchina ma per farvi ignorare. Non sono state settimane facili per noi perché il mister, come sappiamo tutti, è un martello durante gli allenamenti e quindi finalmente abbiamo portato a casa i tre punti e la gioia finale è stata bellissima per tutti, credo. Hai inizio ripresa, entri in campo e incidi perché poi fai fare gol a Odianosa e Manuel ti ha ringraziato anche nell'intervista, che cosa hai scattato lì su quella palla di Stivaletti si è inventato un colpo di tacco. Ho visto una palla, ho visto Stival, ho attaccato prima un pallo e poi ho provato a fare il tacco e mi è andato anche bene perché ci sarebbero stati secondo me o Bobby o Odianosa e meno male Odia l'ha messa dentro. Nel finale un contropiede e poi hai sbagliato l'assist, potete finire in tranquillità il match? Eh sì, ho sbagliato, secondo me l'idea era giusta ma ho sbagliato il gesto tecnico per Roby, poteva attendere un attimo in più per poi fargli fare gol a porta vuota, però l'importante sono i tre punti e finalmente sono arrivati. Sono arrivati i tre punti, è arrivata la salvezza, adesso che cosa si può fare? Adesso noi ci siamo messi tranquilli in classifica e ci rimane solo che sognare, noi di certo non ci tireremo indietro. Non è che la pressione di prima per arrivare alla salvezza vi ha fatto rendere così e poi è arrivato in campo scarichi o non succederà col mister? Adesso credo che non succederà più perché forse abbiamo pagato un po' la giovanità nelle ultime partite, però adesso ci siamo sbloccati e speriamo di non fermarci più e magari andiamo a sognare per i play-off. In questo finale a livello personale oltre alle buone prestazioni qualche gol non sarebbe male. Non sarebbe male no, infatti spero di arrotondare un po' il gol che ho con altre buone prestazioni e soprattutto il gol. Grazie Daniele, complimenti, in bocca al lutto. Grazie mille.